Sì, sì, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la tradizione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Torna a muovere la classifica di Rimini, lo fa dopo un tenda negativo che ha portato alle dimissioni di Righetti e alla ventipanchia di Leo Acori. Per lui, terza apparizione sulla panchina bianco-rossa. A neri arriva un sul Tirol che naviga nelle posizioni alte di classifica. Rimini invece vuole rompere i digiuno e tornare a sorridere, anche se nel riscaldamento Simoncelli dà out. Al suo posto si vede Badie, bianco-rossi che partono forte. Al sesto dal corner di Candido nasce un batti-ribatti in area ospite, con conclusioni finali in fondo alla rete di Venturini. Ma l'arbitro annulla per posizioni regolari del centrale difensivo in maglia numero 4. Il sul Tirol risponde alla distanza a questo tiro del capitano Finch ribattuto da Scotti. Gli ospiti hanno maggior processo palle. Rimini si affida a uno schema su punizioni che porta la battuta a Montanari. Tiro fuori misura. Un'altra punizione, battuta questa volta da Candido, crea scompiglio alla retroguardia ospite che chiude in calcio d'angolo. Dalla bandierina nasce il tiro dalla distanza dell'ex-forsione Viti con il pallone che termina altissimo. La terza delle tre punizioni porta la battuta diretta a Candido, pallone che prende in giro non richiesto. Sfera che termina sul fondo. Su fine di tempo, dall'altra parte, Scotti la combina grossa su una punizione di De Rose. Vini e Torno non approfitta, ma Turchetta sì, ma Scotti rimedia bloccando la sfera. La ripresa vede Montanari arrivare subito alla concursione. Pallone fuori misura, dieci minuti più tardi. Al 63esimo per la precisione, Guglielmo escega un cost-to-cost con concursione finale in bocca ad Offredi. 67esimo. Buona vettura per entrata in campo e cerca l'1-2 vincente con Candido, ma nulla da fare. Scambi di cortesia fra i due, ruoli invertiti che continuano, ma anche in questo caso la difesa del sud Tirol si salva. A 72esimo Beradocco apre per Mazzocchi, cui tiro viene respinto, botta sicura dall'attento Scotti. A 75esimo Irimini va vicinissimo al gol. Dal colonna di Candido, Petti salta più in alto di tutti. Di testa coglie il pieno, il palo alla sinistra del portiere Offredi, che nella situazione rimaneva ovviamente battuto. Due minuti più tardi, Beradocco innesca Mazzocchi che di testa spedisce al lato, ma nell'incredibile occasionissima capitata all'84esimo, quando da calcio d'angolo Decenco spreca a botta sicura da due passi l'appuntamento con il gol. Sfera sopra la traversa. All'87esimo Scotti è attento sulla sventola di Beradocco dal limite dell'area. Dal corner, colpo di testa abbondantemente al lato. Si chiude qui con la salpata bianco-rossa una partita che termina a reti bianche. Per i Rimini, Vitti gioca da terzino e per uno che con Righetti il campo non lo vedeva mai, vista anche la nuova posizione, la sufficienza è meritata. Gugliebre è devastante, ma non basta per segnare. Per i su Tirol, ottime le prove di Beradocco e delle Rosse, due mastini che uniscono quantità e qualità.